E io lo ricordo bene quell'11 settembre di vent'anni fa. Come faccio a dimenticarlo? Anche perché in quel momento io mi trovavo in aeroporto, dovevo prendere un aereo, ero in sala d'attesa e continuavamo a vedere, era di pomeriggio, continuavamo a vedere dai monitor, dai video che erano lì, tutte quelle scene e io immaginavo che avrei dovuto prendere un aereo. Ricordo l'angoscia, ricordo che non avrei voluto neanche prendere l'aereo perché non mi volevo staccare da quelle immagini, volevo continuare a informarmi su tutto quello che stava succedendo. In quel momento ho capito che nulla sarebbe stato più uguale a prima, infatti poi sono cambiati anche tantissimo i controlli sugli aeroporti. Quindi 11 settembre, sono passati vent'anni, il mio ricordo rimane sempre indelebile e anche abbastanza traumatico.